ciao a tutti cari amici e benvenuti da ader bijou guardate quest'oggi cosa ci accingiamo a scoprire insieme mie nuove creazioni niente di che è stato un art attack veloce ho voluto soprattutto utilizzare alcuni degli stampi che mi ha regalato federica che saluto ringrazio sempre sempre ringrazierò e ho voluto utilizzare questo questo dei suoi che c'erano nella confezione magica e poi dopo visto che mi trovavo ho aggiunto degli altri miei insomma ora infatti il primo che andremo a scoprire proprio questo qui ci sono dei cristalli nei quali ci ho fatto un poco di il petri dish ti dice che andremo a vedere immediatamente colori ad alcol gualla allora sempre mi stanno piacendo tantissimo i colori ad alcol quelli metallizzati ce li aggiungo sempre adesso perché mi piace davvero l'effetto vedete alla fine cosa ho fatto ho fatto bianco vabbè gocce di oro gocce di verde kiwi che si vede poco perché alla fine del fondale qui alla fine che cosa ho fatto sono andata a sigillare il tutto con del nero per dare una una chiusura di fondale insomma vedete e mi vi dà questo verde appena accennato con loro così prove tecniche ovviamente di registrazione così tentativi non male insomma non allora questo qui chi siete questo qui stava qua forse era del cristallo stesso da più lo vado a limare si conviene animarlo niente allora questo qui invece idem insomma fatto con vedete oggi grigio da noi però grigio magari e piovesse in realtà sono nuvole di calore meravigliosi allora qui abbiamo del blu del blu navi se non erro e poi ci ho messo del del perlato sempre alcol in che per il bianco era c'era scritto per lato bianco insomma ora che qua sempre il perlato con il lilla questo viola che vabbè questo pallottolo forse sta sempre la quindi vabbè poco male si toglie insomma anche si può staccare facilmente con l'unghia guardate qua e sempre di sotto l'ho sigillato con il nero per dare steffettino un po così il finale più più definito ecco vedete in modo che non si vedessero poi anche le varie gocce di di alcol ink vedete stessa storia col viola e particolare perché insomma ti dà l'idea di quel di quel viola no però non è proprio marcato è un pelato normale normale stessa cosa per questo prevale il loro però c'è quella non so che di verde che appunto messo normale normale non mi dispiacciono carini sa con il wire questi qui forse l'ideale infilarci poi il filo metallico e lascio intorno forse viene una bella figata allora vado avanti con i sapi federica c'era questa bella cornice non sta ancora vero sottilissimo infatti ho dovuto per non farlo basculare l'ho dovuto mettere su un piano che lo mantenesse è uguale ed è questo questo cammio qui bello grande ho voluto fare questa combo questi sono dei colori della ikea che mi ha portato mia sorella che ci è andata l'altro giorno sono diversi i colori tra cui questi fluo c'è un arancione verde insomma una bella sfilza e sono effettivamente delle delle tempere alla fine delle tempere molto molto cremose ho provato a dipingere e viene un effetto poi molto opaco ho detto ma ce la metto nella resina vediamo cosa succede nella resina mi dà questo risultato questi scintilli sono dovuti al pigmento micasio che non può mancare eccolo qua che da questo effettino e malvagia la fettino scintillante poi c'è da colorare i dettagli ed è una bella cornicetta fatta così carina dai carino vado avanti non bellosi anche loro non mi dispiace niente fino ad ora ma allora adesso vediamo questi cristalli questo stampo comprato da li express che avevo già ho detto visto che è tema cristalloso usiamo anche questi un lettere o stessa stessa modalità quindi vedete qui dovevo andare meno in cima perché vedete c'è da limare poi tutto questo pezzo comunque qui ha prevalso tantissimo il dorato nemmeno il verde però che poi messo un pochino forse troppo troppo flash non si vede tanto adesso qua vabbè comunque male non è poi c'è questo sempre era quasi un vulcano guardate qui che particolare queste striature che scendono come se fosse un vulcano mi ricorda insomma la fantasia poi vediamo quest'altro che fa così ma carino questo e con il blue blu blu ma qui e l'argento ho messo anche il pink color argento se eccola ma bella già il fatto che non ci sono le bolle buona carino un anello bello meno fatto così che ri minò insomma simpatiche eccellenti però simpatiche creazioni adesso adesso andrei questo è particolare allora questo qui è un bouquet cioè un mazzo di fiori ovviamente vuoto da riempire con i fiorellini che chiaramente possiamo comprare anche di ferramenta quelli tipici delle bomboniere sapete quelli con lo stelo in metallo eccolo ma che carino molle non è abbastanza liscio anche quindi ed è fatma che carino e questo bucché bellissimo allora in pratica una bolletta ci resta la bolletta bene sì ma d'altronde è il bello affidato a questo bordo non si vede insomma 18 forse vede con quelli mandolo perché effettivamente troppo troppo spigoloso effettivamente poco male e stavo dicendo questo vedete queste micro bollicine sono dovute anche alla tempera perché i colori a tempera insomma o a chirilici insomma te lo danno il effetto diciamo con più bolle rispetto ad un micace o rispetto ad un ad un colore ad alcol eccetera opposito per resina comunque bellino ci mettiamo i fiorellini qui volendo si possono fare anche in film e viene bel mazzo di fiori carino poi vado avanti anche con queste vicino curiosa davvero acqua effettivamente ci vorrà un mese per farlo uscire perché comunque facile da introdurre facile mica tanto se non ti metti a perpendicolo di scelta resina da fuori insomma ecco comunque mi dispiace questo queste sono le gomme industriali quindi non si dovrebbe rompere però ma ci picchia quasi potrebbe se prende da la gomma qualsiasi ssi industriale non se prende il punto di rottura addio va via come la calza la casa di filanca parte la rottura qua ma lo sapevo avevo pensato già nel video detto e chissà quanti anni ci impiego a partorire un parto praticamente su 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 un un casino qua non voglio neanche romperti fratello pallino dunque bello all'interno ho messo ci ho messo il aiutami ok non si è rotto allora ci ho messo il i fiori vedete come fa che quello è il bello che poi ho fatto wow dai che sembra una palla psichedelica ci piace in pratica ho fatto ci stanno eccoli fiorellini il i soffioni li ho messi sul fondale dopo con me sul carresina trasparente infine ho dato quel tocco di wow di nero con il micaceo mi piace un sacco fareste effetto qua wow 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 con questo con questo mi piace o perlescente figata basta vado avanti che sennò già dieci minuti però bello guardate che bella biglia ovviamente va limata ciao amici basta adesso vi faccio vedere il miscuglio che ho fatto qua niente in pratica mi ha avanzato del colore questo fucsia di qua no però che ho fatto detto ma riempio un po di ballina e poi la vado a completare con altri strati differenti altri strati differenti che adesso vi mostro no vabbè no vabbè aiutami a non sfondarmi né la mano perché abbastanza tagliente la parte superiore partoriamo questo bimbo oh my god ti prego senza rompere infatti non voglio vedere il sopra ti prego ce la posso fa immagino se devo fare un tic tocco così comunque questo perché ogni tanto faccio pure la da poco mi sono creata un account giusto per così per divertimento e vai pacchete prego vabbè sempre bellini vero vabbè dai allora ho fatto così bello allora vedete qui si vede bene il discorso del perché questo papo e si vede bene il discorso del fucsia con perlescente poi ci ho messo vede avevo comprato l'altra volta all'aliexpress questa specie di perline però di plastica e ho detto ma faccio un mix in resina bianca ovviamente di quelli che ho fatto così poi le bollicine cerchi piacciono certi nome non mi dispiacciono in questo contesto qua e dopo di che il finale l'ho chiuso con della resina nera nera basta stop che era quella che mi era avanzata di loro l'ho chiuso niente il suo perché insomma il suo bo fatto così si può fare un pendente per collana tranquillo molto particolare insomma per fare qualcosa di diverso non sempre comune e adesso mi mancano praticamente queste e questi qui questi qui ovviamente sono delle goccettine avevo infatti qui secondo me le bolle a gogo dai apriamo questo per primo vabbè è questo bellissimo stampino ovviamente ho detto ma mi ci faccio il nome adri sai che comunque io non getto nulla nel senso che faccio di tutto in utilizzo e quindi ci ho fatto ste letterucce qua però io sono consapevole del fatto che le bolle vedete gli spigoli comunque queste e poi salvare colorando la lettera madri a n che poi nel mio nome ci sono tre a quindi qua ce n'è una sola fatto il pesce il mio segno poi guardate la d vedete queste ti dicevo le puoi salvare vabbè colorando la lettera all'interno chiaro e poi si fa una bella colata sopra che va a bombare il tutto e anche a sigillarlo perché d'altronde anche voi vedete ma qua o la quali ideale fa la resina trasparente se non traslucida proprio un colore tipo chiarissimo traslucido e dopo di che vedi il fondale insomma ma deve essere bella vedete con me vabbè dai raga questo è bellissimo pigmento yu yu molto molto scintilloso inserito nel nero e da vita questo wow vabbè anche qua solita quindi ce l'ho buttata proprio così senza pensare perché tanto detto il nero chi le vede poi se le bollicine quindi amen ciò che viene viene noi inevitabile bollicino quando d'altronde guardate no vabbè qua se lo vuoi far per bene resina trasparente cioè traslucida colorata proprio appena appena dopodiché qui lo stesso perché ho fatto il biscotto con un po di loro biscotto con un po di pigmento scintillante rosso interferente no guardate qua perché volevo fare sta tortina per non fare proprio classica però bello il colore biscotto lo riesco a realizzare con i pigmenti della della resin pro ma che è fatto qua non riesco a capire queste se questo va bello rilascio di quel pigmento evidentemente nottetempo l'ho fatto sto qua l'ho mescolato perché non sono bollanto va tutto dipinto l'ho mescolato papà 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 e poi dopo l'ho versato con la resin pro sono due boccacci antichi che c'ho di quel pigmento in pasta e che bello ma dipinta la ciliegia tanto rossa verde vai carino niente vado con l'ultimo così c'ho già 16 minuti e questa è una bella scarpa voilà molto molto elegante ho fatto nero il nero ho pensato alla scarpa elegante nera poi ci faccio questi qui ce li coloro se ne ammazza quanto è lucido sto stampo per la miseria non aspettavo se scintilla uno specchio sembrava la fa bella elegantissima questa va bene con si può fare dorato argentato i dettagli e si rende per un orecchino e bene adesso posso chiudere il video per gli stampi di federica bellini anche questa questa è stato molto usato quindi ho detto comunque potrebbe lasciarmi insomma comunque invece abbastanza bene dai amici allora adesso io a questo punto siamo alle battute finali vi lascio no va beh ma questa questa scintilleria di sotto bellissimo niente allora vi lascio ad un buon procedimento di giornata e ci vediamo al prossimo video like i miei pollici sono sempre così al finale dei miei video vedete indicano like 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 commenti iscrivetevi ciao a tutti ci vediamo al prossimo video ciao a rieccomi e dopo i saluti invece mi rendo conto che ho dimenticato era l'unico sedotto abbandonato povero e adesso con una mano che mantiene il telefono che lo apre bello dai non è malvagio ma che carino qui c'è del blu dell'illa e c'è l'argento fatto così e poi ho chiuso con il nero in modo che venisse anche il tappo di un altro colore che carino ma peccato povero che stavo dimenticando dai su e adesso è veramente terminato questo scopriamo vi salutano le mie creazioni anche ari ciao 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 ci vediamo al prossimo video ciao ciao